Musica Cari amici, stasera accanto a me è tornato D'Argenzio, grande giornalista, grande direttore di giornali, grande inventore di pubblicazioni dico, lo ripeto, l'ho già detto la volta precedente c'è stato un momento in cui lui ha inventato il Courier Boy gli adolescenti degli anni 70-80 hanno avuto il loro giornalino e lui poi aveva creato Jesus Jesus 77, giusto? Un personaggio a fumetti interessantissimo e modernissimo Era Gesù con le scarpe da tennis quindi è il primo che cercava di portare la religione, le cose buone nel popolo, nei giovani Certo, e poi Raffaele d'Argenzio come voi sapete attualmente, sono già vari anni, con la sua casa editrice sta pubblicando Weekend Premium un periodico di turismo diciamo di elite di qualità insomma Ecco, ecco, non di lusso, perché il lusso non è nelle mie corde per oltretutto ma premium significa qualità quindi ci può essere premium anche in un piatto di spaghetti fatto nel miglior modo possibile ecco, questo è il concetto di premium certo, certo, e lui ogni anno fa una grande festa in cui distribuisce i premi alle eccellenze e quest'anno, c'è stato proprio pochi giorni fa e quest'anno ha distribuito dei premi diciamo in chiave green perché il green da anni, lui è stato un anticipatore di questa moda ora tutti parlano di green, di green lui con il suo giornale porta avanti questo discorso da tempo era la sezione proprio Weekend Green in cui andiamo ancora a scoprire i borghi green d'Italia ma a certe volte anche all'estero e anche le nazioni che più si danno da fare per essere green abbiamo premiato ad esempio l'Irlanda per il parco cittadino più ampio abbiamo premiato la Germania perché in rapporto al verde e alle città è quella che ha più verde rispetto alle città e via dicendo ora quest'anno invece abbiamo premiato l'Etiopia è stata una sorpresa un po' per tutti e già qualcuno comincia a parlarne perché? Perché l'Etiopia questo stato dimenticato ha piantato in un solo giorno il 30 luglio ha piantato 350 milioni di alberi naturalmente quando l'abbiamo detto e abbiamo dato il premio è venuta l'ambasciata di Etiopia e da Roma è stato di molto carini abbiamo parlato anche del loro futuro certo del turismo del turismo ecco andiamo in Etiopia perché l'Etiopia è la terra da cui noi siamo venuti è la terra da cui è partito l'Homo sapiens ora come ho detto durante l'evento non tutti siamo sapiens specialmente io però è da lì è da lì che è venuto l'Homo sapiens è da lì che c'era una grande civiltà se vi ricordate la regina di Saba era da lì e poi la regina di Saba con Salomone ebbero crearono Menelik che fu il primo il primo imperatore di Etiopia ora lo sforzo dell'Etiopia è quello di tirarsi fuori ha fatto pace con l'Eritrea perché aveva lo sbocca al mare e adesso stanno facendo dei passi da gigante per ritrovare un po' di quella grandezza che avevano un tempo ci sono dei magnifici castelli sono cristiani ortodossi tra l'altro è una tossega a copte ma in ogni modo è una tossega uno deve andare in Etiopia pensando che è un paese che sta crescendo per cui qualche scomodità la troverà comunque però c'è ad esempio tu hai presentato l'altra sera c'è un'agenzia proprio specializzata che conosce profondamente l'Etiopia che li può accompagnare adeguatamente viaggi tribali di questo giovane che si chiama Massimo Pegoraro che sembra un etiope anche lui è vero e loro riescono a portare in Etiopia i turisti ma facendo ovviamente vedere le cose migliori le cose più interessate perché lì in Etiopia si va dalla Dancalia ai castelli cioè c'è un po' tutto c'è un po' tutto si va altitudini e mentre mentre però in Etiopia hanno seminato 350 milioni di alberi e speriamo che crescano tutti rigogliosi c'è invece un altro paese che nel frattempo ne sta bruciando tanti e che tu hai bacchettato inventandoti un premio che secondo me è geniale è geniale raccontale raccontale agli amici l'abbiamo creato quest'anno proprio perché premiando l'Etiopia che nella sua povertà però nella sua forza verso il risorgere poi abbiamo visto che in Brasile nella foresta armazzonica venivano lasciate bruciare lasciate bruciate non mettere ma bruciare milioni di alberi e Bolsonaro noi abbiamo invitato a ricevere il premio ma non è venuto però il premio black in the world il nero nel mondo e non è venuto e lui dice il Brasile è nostro e noi in pratica possiamo fare quello che vogliamo e io dico la terra è come se fosse un grande condominio quindi a un certo punto tu puoi in casa tua puoi fare delle cose ma se fai delle cose che danno danno agli altri che sono i tuoi vicini allora non è roba tua è roba del condominio il condominio si deve ribellare è giusto? è certo facciamo una riunione condominio ecco è vero se il nilo il nilo che nasce dal lago Vittoria se nel sud mi pare se tagliano il nilo l'Egitto si arrabbia molto dice allora il mio pezzo di nilo faccio quello che vuoi e no e no è giusto siamo tutti sulla stessa barca insomma non si può più allora se tu vuoi utilizzare la foresta amazzonica cerca di utilizzarla in un altro modo fai venire più turismo i semmai gli alberi che bruci ne rimetti degli altri non so una cosa che non dia fastidio al condominio è certo è certo per cui lui si è inventato e weekend premium si è inventato e lo consegnerai ogni anno no il black in the world cioè il premio ha la maglia nera alla maglia nera dei paesi del mondo e quest'anno la maglia nera è il Brasile perché sta distruggendo una grossa fetta della foresta amazzonica però nel weekend premium c'ha anche un cuore no? ah beh certo c'ha un cuore dal quale è scaturito una una volta nella vita sì l'idea di una volta nella vita ho pensato che noi parliamo di tanti tanti viaggi da fare anche noi giornalisti del turismo viaggiamo molto e per una ognuno di noi però comunque ha un sogno viaggio un viaggio sogno da fare che vuole fare che secondo me deve fare perché i sogni bisogna realizzarli se no sono chimere però c'è tanta gente specialmente dei giovani dei ragazzi che anche loro hanno un sogno un viaggio sogno però sono sono sfortunati ed è un combatto ogni giorno per la loro vita e non hanno tempo di realizzare i loro sogni il sogno gli fa compagnia nei momenti brutti nei momenti difficili e noi ci siamo presi questo compito di aiutarli a catturare questo sogno non so se sei d'accordo a vivere quel momento di questa vita così tormentata da malattie da problemi di varia di varia umanità accogliere finalmente un momento di serenità di pace e realizzare appunto un sogno e noi stiamo cercando dopo aver catturato questi sogni insieme a loro per farglieli vivere adesso vogliamo creare un'associazione una fondazione in cui non è Raffaele d'Argenza non è Weekend Premium ma tutti insieme creiamo un'associazione onlus ovviamente in cui con cui possiamo aiutare non donare ma aiutare a catturare questo sogno insieme per realizzarlo perché loro ne hanno il diritto e noi abbiamo il dovere di aiutarli ecco nel numero di Weekend Premium Guide che è il numero diciamo di conclusione dell'anno in cui segnali le cose più cose c'è un sogno realizzato un sogno realizzato siamo siamo riusciti lui è riuscito Jacopo è un ragazzo di 15 anni che aveva come sogno andare a Barcellona entrare nello stadio del Barcellona conoscere Messi e conquistare la sua maglia noi l'abbiamo aiutato a fare tutto questo lui ci è riuscito e ha fatto un bel racconto delle sue delle sue esperienze non ha conosciuto Messi mi pare ma ha avuto la maglia firmata da Messi e per lui è già una bella cosa no? aver raggiunto questo suo sogno e quindi lui ha avuto durante l'evento applauditissimo ha avuto il premio Young Reporter per una volta facendo un servizio su questo sogno che per una volta lui è andato siamo riusciti ripeto tutti noi abbiamo un sogno per una volta di andare in un po' anche lui l'aveva e anche lui ha catturato il suo sogno e lo ha realizzato bellissima questa iniziativa è bellissima e spero che tutti i tour operator le agenzie turistiche di varie umanità contribuiscano a creare queste opportunità noi chiediamo chi entra in questa associazione qui non si parla di soldi si parla di viaggi no? deve aiutare a catturare un sogno donando un viaggio all'anno quindi non è una grande cosa però se tanti si mettono insieme noi possiamo regalare questo sogno a tanti che non hanno tempo hanno poco tempo e non hanno tempo per per realizzarlo da soli dobbiamo aiutarli certo Weekend Premium poi come si diceva prima è molto attento alla qualità ed è molto attento anche a a tutte le infinite piccole ricchezze che ci sono nel nostro paese perché il nostro paese non è Roma Milano Cosme è un'infinità di borghi un'infinità di piccole aziende che fanno dei formaggi favolosi dei salumi favolosi eccetera e tu hai premiato hai premiato una località che sino al momento della premiazione per me era assolutamente ignota ma credo a molti insomma che hai premiato abbiamo premiato Cadersone Terme dove? che è vicino vicinissimo a Madonna di Campiglia 13 km poco più di 10 km ma che è un posto fantastico dove gli alberi non bisogna né piantarli né bruciarli cioè ci sono e quelli vanno benissimo quegli alberi lì ma loro sono appena in 600 quindi poi adesso hanno anche scoperto delle termine adesso da qualche anno non da moltissimo delle termine ferruginose che fanno bene ai polmoni e poi producono un formaggio bio di una qualità eccezionale che abbiamo fatto degustare anche durante durante l'evento è un salame all'aglio ecco sono cose che bisogna andare a mangiare lì non le abbiamo usato bisogna andare lì e mangiarli perché ne vale veramente la pena come diceva il dottor Simonelli sono quelle chicche quelle 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 preziosità del nostro sono cose premium ecco qui c'è la qualità premium questa è la qualità ma lo sai lo sai quale sarebbe un mio sogno segreto ecco appunto il mio sogno segreto visto che si parla di sogni ma un sogno così di vedi noi stiamo facendo questa questo video talk davanti alla tecnologia della Apple che ci riprende eccetera ecco io con questa tecnologia della Apple insieme con un carissimo amico che tu conosci e anche collega Claudio Pina amerei amerei tanto fare il giro d'Italia nei piccoli borghi nelle cose con dietro un una video un video che riprende due microfoni e sono sicuro che nei piccoli borghi nel coso troverei il personaggio curioso le memorie di un anziano che mi ricorda il coso troverei la cucina particolare eccetera eccetera questo sarebbe un sogno guarda che mi piacerebbe realizzare ma io dico che è un sogno che si può che si può realizzare solo che bisogna avere la sensibilità eccetera capito non riprendere soltanto il paesaggio ma l'umanità infatti infatti e te lo dice te lo dice uno che ha vissuto molto alla Domenica del Corriere per cui eccetera e con un altro personaggio come Claudio Pina che ha vissuto gran parte della sua vita in selezione da Rida's Digest che cosa c'è di più di più popolare in ogni modo io sono veramente lieto caro D'Argenzi io ti do del tu tu mi chiami il dottor Simonelli io sono Luciano e sono sono lieto che tu con la tua casa editrice stia portando avanti delle belle cose in questo in questo panorama editoriale così asfittico c'è per fortuna non a caso della vecchia generazione se mi consenti che continua ad avere delle idee punta alla qualità e che dire ci siamo visti un anno fa per parlare di green di weekend premium e di cose ci rivediamo a distanza di un anno siamo sempre vivi e vegeti per cui ci diamo l'appuntamento all'anno prossimo realizziamo anche noi i nostri piccoli sogni realizziamo i nostri sogni io ti ringrazio grazie a te ciao ciao arrivederci grazie a te grazie a te grazie a te